Siamo con Alessia Gennari, una valutazione di questa partita che avete comunque combattuto fino alla fine? Diciamo che il nostro obiettivo era fare qualche punto oggi, indipendentemente dal risultato. Non ci siamo riuscite, però il ramarico c'è, però sono comunque soddisfatta perché non eravamo al massimo della forma e per cui comunque siamo riuscite a tenere testa a una pomì forte e abbiamo alcuni punti sicuramente in cui dobbiamo crescere, però ci concentreremo al massimo sulle prossime due partite. Quali sono i punti di debolezza su cui dovete puntare adesso? Sicuramente noi dobbiamo riuscire a battere un pochino meglio per mettere in difficoltà le alte ricezioni e migliorare il muro di difesa sicuramente perché con il muro un po' disordinato la difesa fa anche fatica a posizionarsi e sicuramente possiamo difendere di più, quindi ci concentreremo su questo credo. Va bene, ti ringrazio. Grazie a voi.